Per questa giornata di campionato le telecamere di Lilia e Tantissimo vedono scendere in campo Cogoleto e Carcarese. Si prospetta un match interessante per entrambe le compagini. Splendida occasione è quella dell'undicesimo minuto che vede avanzare il Cogoleto. Anselmo sulla destra riceve il pallone, tenta la conclusione ma il tiro impreciso termina a fil di palo. Risponde Baroni al minuto 14 che avanzando verso la porta avversaria cerca di finalizzare ma l'estremo difensore Canciani interviene senza troppi problemi. Minuto 22 è calcio di rigore secondo il giudice di gara. Il fallo subito potrebbe essere per il Cogoleto occasione di vantaggio ma il numero 8 Anselmo sbaglia di inquadrare e la sfera colpisce il palo. Arriva il ventiduesimo minuto e arriva anche il vantaggio della Carcarese. È il bianco-rosso Baroni che dalla destra imprime al tiro la giusta decisione facendo posare la palla dritta in rete. 1-0 per gli ospiti. Minuto 33. I padroni di casa non mollano e si accaniscono per raggiungere il pareggio. Ci prova Ceccarelli ma De Mauro blocca prontamente il pallone. Rispondono gli ospiti al 38esimo. È il numero 3 Comon che è veloce e prova a fare tutto da solo superando una difesa forse un po' incerta. La decisione con cui avanza però non è la stessa che impiega nel tiro, che sbaglia perdendo una bella occasione. Si conclude 1-0 per la Carcarese, un primo tempo piuttosto equilibrato e grazie alle immagini di Mattia Ciaffardo passiamo alla prima azione significativa della ripresa che si materializza al minuto 4 quando i gialloblu salgono verso la porta avversaria e il numero 3 Rondinelli tenta di finire con una cannonata ma il tiro impreciso non va a rete. Il tempo passa inesorabilmente, la tensione e la stanchezza iniziano a salire per entrambe le squadre che cadono in ammunizioni e in occasioni sprecate. È il minuto 26 e su calcio di punizione prova ad inquadrare lo specchio il biancorosso pesce. La sfera però va oltre il rettangolo. Minuto 34 ancora i gialloblu in attacco. Sembra stregata la porta avversaria che non permette ai padroni di casa di recuperare, nonostante i continui tentativi. Quarantesimo minuto prova a concludere Craviotto, ma ancora una volta al pallone non entra in rete. Quarantesimo minuto di gioco, un'altra volta il Cogoleto avanza verso la porta degli ospiti e dopo qualche passaggio ben piazzato interviene il numero 6 Perrone che finalmente segna il gol del pareggio. Una partita combattuta fino all'ultimo minuto che però termina con il pareggio.